Molti fanno risalire ai fatti di Torino l'avvio del 68, quindi dell'azione del movimento studentesco. In realtà qualcosa era successo anche prima, basti ricordare la data del 1 novembre del 1967 a Trento, quando parte uno sciopero degli studenti che durerà addirittura un mese, o addirittura la data del 17 novembre del 67, quando a Milano, in seguito a un'assemblea, gli studenti dell'Università Cattolica decidono di occupare l'Ateneo che verrà poi sgomberato. Certo nell'immaginario collettivo l'occupazione di Palazzo Campana resta forse uno dei momenti clou del 68 italiano. Questo anche perché in seguito all'occupazione dell'Università succederanno una serie di cose che vedremo poi replicarsi nel corso del tempo e che daranno forse la fotografia di quello che è per molti aspetti il 68 italiano. Per esempio la divisione tra gli studenti di destra e quelli di sinistra, proprio divisi sull'occupazione stessa di Palazzo Campana, addirittura verrà indetto un referendum per decidere se era giusto o meno tenere occupata l'Università. Alla fine su poco più di mille votanti 815 risulteranno favorevoli. Inoltre è lì a Torino nell'occupazione di Palazzo Campana che nascono alcuni degli slogan più conosciuti del 68, per esempio l'espressione potere studentesco. In realtà poi nel corso dei mesi il 68 svelerà anche lati diversi di quelli che si erano visti nelle prime settimane nei primi mesi. Per esempio dal primo marzo del 68 cominceranno gli scontri con la polizia e appunto verranno fuori due anime diverse all'interno del movimento. Quella è l'anima più ludica, quella del potere alla fantasia e quella invece più violenta degli scontri di piazza e che poi porterà gradualmente anche al clima degli anni di piombo. Va detto una cosa, che sicuramente il 68 italiano e quindi anche l'esperienza voglio dire torinese, è sicuramente un'esperienza molto più complessa e articolata del 68 vissuto in altri paesi. Chiaramente la protesta degli studenti non era solo italiana ma c'era anche al di là dell'oceano e c'era anche appunto in altre città europee. Però ecco, pur essendo più articolato, più complesso e anche più lungo il 68 italiano, in realtà forse nell'immaginario collettivo il 68 è spesso il maggio francese, che in realtà durò molto meno, ma che forse ci ha regalato delle immagini e degli episodi che hanno fatto a livello internazionale la storia della rivolta degli studenti.